Era una partita per il Pescara complicata, il Sestri Levante ha tolto ogni spazio, nel secondo tempo è andata vicina al vantaggio, a conti fatti però il Pescara l'ha meritata secondo lei questa vittoria? Come dico sempre, quando una squadra vince una partita, alla fine qualcuno ha sbagliato qualcosa e dall'altra parte hanno fatto qualcosa di meglio, quindi Pescara ha fatto gol, noi no, il Pescara ha meritato di vincere la partita. Penso che la mia squadra abbia fatto una grossa gara e se devo dire quello che penso io oggi non meritavamo di perdere, abbiamo avuto due occasioni importanti, non le abbiamo sfruttate prima di prendere gol, il calcio è questo, non perdona. Se ci vuole raccontare un po' quell'azione che è stata, se non erro, da quinto a quinto, il cross del quinto di sinistra per il pallone arrivato sul quinto di destra, che limite dell'area piccola, posizione centrale, occhi negli otti complizzari, ha fatto un regalo al Pescara. Sì, sì, è già successo anche nel primo tempo, da quinto a quinto, però era un po' più complicato. Sì, perché poi ha calciato al volo, secondo me poteva controllare e fare qualcosa meglio, questa è una palla dentro era piccola, di piatto, una palla un pochino più semplice, però ripeto, si sbagliano gol, anche peggiori di questo, quindi io non sono uno mai che punta il dito contro un giocatore, avremo vinto, non lo so, magari poi perdevi 4 a 1, quindi quello non si può dire. Sicuramente abbiamo fatto comunque due o tre situazioni importanti, perché anche quella di Clemenza, prima di subire il gol, Sestri per me oggi non meritava di perdere. Guardate, qui davanti a lei c'è Giorgi Tuniov, di spalle, in attesa della conferenza stampa, lo saluta con il sorriso, ma cosa gli può dire? No, gli faccio i complimenti, perché comunque io penso che fare gol è sempre difficile, ha risolto la partita della sua squadra, quindi devo fare i complimenti a lui. Subentrando, sicuramente noi ci abbiamo messo del nostro, però ripeto, a me non piace puntare il dito su nessuno, anzi, è assurdo, ma faccio i complimenti alla mia squadra, perché venire a Pescara a giocare con questa personalità e determinazione, devo fare i complimenti ai miei. La salutiamo così mister Scotto con una considerazione, perché il suo Sestri Levante ha avuto un trittico terribile, Ternana, Entella e Pescara, ovvero tre insieme con la Torres, squadre candidate al salto di categoria. Le chiedo intanto un confronto tra le ultime due, quindi Entella, Ternana e Pescara. Sono tre squadre di assoluto livello, quindi penso che siano tre squadre che fino alla fine, come diceva lei, insieme alla Torres si giocheranno le carte fino in fondo. Pescara in questo momento qua sta dimostrando che è in cima alla classifica con vantaggio sugli altri, quindi penso che stia meritando quello che ha fatto. Io ho visto il Pescara tante volte, prima ovviamente di venire a giocare qua. Visto anche a Pesaro si è un po' spaventato? Sì, sì, assolutamente sì, ma non c'era bisogno di vedere Pesaro, perché comunque vedo la determinazione con cui giocano, vedo la convinzione che hanno a livello di squadra, quindi io penso che i giocatori mister stanno facendo un grandissimo lavoro in questo momento, sicuramente la squadra migliore.